Si parte, comprensibilmente, con una grande voglia di farlo. A Cortina inizia la stagione dello sci dopo le occasioni perse un anno fa. Quest'anno sulle piste del Col Gallina, nella schiarea delle 5 torri, la data di inizio attività è il 7 novembre. Mancano quindi davvero poche ore, dalle 8.30 alle 16.30, impianti in funzione e prime sciate per chi ha il Green Pass. La prima apertura è un antipasso della stagione che verrà e che partirà praticamente per tutti gli altri impianti tra il 27 novembre e il 4 dicembre. Il Ponte dell'Immacolata rappresenta da sempre il primo indizio sulla voglia di sci dei turisti. Chissà come andrà quest'anno dopo che gli appassionati hanno perso la coda della stagione 2019-2020, di fatto gli ultimi due mesi, e l'intero inverno del 2020-2021. Cannoni spara neve in azione quindi per preparare il fondo, anche se sui versanti, sciistici o meno, c'è già un po' di neve naturale, una trentina di centimetri a Col dei Baldi, poco di meno nell'area del Falzarego, mezzo metro a Ravalles.